Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, oggi siamo qui sulle sponsorizzazioni Il primo canale di oggi si chiama JumpyFoil JumpyFoil è un piccolo youtuber che porta principalmente Minecraft E' davvero bravo, quindi mi raccomando, passate subito il suo canale Link in descrizione e avrebbero immaginato il canale Il secondo canale di oggi si chiama The Rounders of Clash of Clans Rounders of Clash of Clans, come suggerisce il nome, porta principalmente Clash of Clans E' un canale, diciamo, diverso da tutti quelli che porta Clash of Clans Quindi vi consiglio assolutamente di passarci, link in descrizione e avrebbero immaginato il canale Il terzo canale di oggi si chiama Amprix Gaming Questo canale è, penso, uno di quelli più strani, in senso positivo, che abbiamo visto Ora vi spiego perché, perché porta giochi che non ho mai visto portare da nessuno Quindi vi consiglio assolutamente di andarci E questi video sono molto molto belli, vi lascio il link in descrizione e le belle immagini del canale E l'ultimo canale di oggi si chiama Peppe923 Peppe923 porta principalmente unboxing, recepizioni e tutorial Quindi vi consiglio assolutamente di andarlo a vedere perché è molto molto bravo e è molto bravo anche a spiegare È molto bravo a spiegare e a far venire Quindi vi lascio il link in descrizione e belle immagini del canale Come al solito vi ricordo che se volete essere sponsorizzati dovete rimanere attivi Lasciare un mi piace alla pagina Facebook, lasciare un mi piace a almeno 5 miei video Iscrivervi al canale, scrivermi un messaggio in privato sulla pagina Facebook Non un post pubblico sulla pagina Facebook E vi ricordo sempre che se mi iscrivete qua sotto sponsorizzami Non puoi sponsorizzare, abbiamo visto il video sponsorizzami Vi ricordo che non vi sponsorizzerò mai perché io, voi sapete E vi ricordo benissimo anche questa volta che chi mi iscrive così non verrà assolutamente sponsorizzato Quindi se vi è piaciuto lasciate un bellissimo like, un commento, condividete E ci vediamo al prossimo video, ciao!